E' una cosa lunga, allora c'è uno come quello che facevo prima io, entra in un bagno, sta facendo pipì, vicino a lui un nero, lui guarda la fare, dice cosa c'è? E allora dice quanto vuoi per venire con me? 50 euro al centimetro, dice io sono 200 euro, si mettono in posizione che una porta più di 4 centimetri non è, e fanno tutto tanto, scidola, lo d'avanti, se la proposta, tricchete, si riempimi i debiti. Riempimi i debiti. E' una moglie, e' una moglie, vicino a casa del destra e la sinistra, a sinistra, a vedi? Su, dormi, su, vicino alla terza fila, rimasta fila. Voi che siete più serie, a vedi? Mi siete più serie, a vedi? Mi sei più serie, a vedi? E' un po' che si, però, non è che mi hai ricordo. Allora, c'è Totti che va da un amico e dice sai, lo zio ieri sera è morto, come è morto? Stavo giocando a carte, e' morto. Con l'asso, se non lo so, le carte non glielo guardate. Ditemi, ditemi, datemi a qualcosa. Mi sta sporgendo qua con la sedia. Sta sporgendo qua con la sedia. Quella avanti, con la moglie, stai con le gambe incavallate. Su, da bravo, su. Hai visto? Senti qualcosa. Vedi la stessa fila con la telecamera. Qua. Vedi, prima, prima, prima. Dietro parli, sì. Dite qualcosa, su. Vaffanculo qua, la moglie. Buonanotte. Stava pure la figlia, la prima moglie, la cosa? Buonanotte. Ci lasciamo qui. Eh? Di vederci. Signora? Dov'è andata? Signora? Se fai mi abbandona, mi abbandona, mi abbandona? Ande. Senti, se io te lo lascio a te, lo maltratti, no? No. Grazie. Ringraziamo a Claudio. Caro pubblico, ci salutiamo nella speranza che vi siate divertiti. L'importante è quello. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno permesso di fare ciò. Vi presentiamo ora tutti i nostri amici in ordine di apparizione. Andrea Cavasassi. Martina Palmarucci. Michela Palmarucci. Alessia. Beatrice. Sonia. Dove siete ragazzi? Vi aspetto sul palco. Oh, ecco l'applicativa. Giulia. Emma. Silvia. Romina. Elisa. Bastian. Manuel. Fausto. Alessandro. Ivan. Chiara. Esther. Mattia. Paola. Michele. Emanuele. Teresa. Luigina. Angela. Daniele. Claudio Bills. Tania. Mauro. Rodrigo. Nicolás. Felipe. E Mirko. Siamo tutti qua. Ci sono qui? Un ultimo applauso e grazie a tutti voi. De fuori, de fuori. Stai io, stai, slavi, tedesco. E io per il giro. Grazie.